Amici del musicantiere in compagnia del mitico Francesco Gabani vi ricordiamo che quest'anno è nei Big a Sanremo quindi attaccati al telefono, attaccati a tutti i mezzi per poterlo votare ma non è una raccomandazione, è perché Francesco è un grande artista grazie, grazie maestro, vi mando un saluto io sto partendo proprio adesso per Sanremo per fare le prime prove all'Ariston quindi io ci metto tutta la mia forza ed energia e voi se ce la fate aiutatemi con vota vota Antonio, vota Antonio il numero non lo sappiamo ancora però appena uscirà il numero faremo un altro appello a tutti i talenti emergenti del musicantiere ciao a tutti, grazie ciao ragazzi ciao